Allora, io Kami la conosco dall'anno scorso perché abbiamo giocato insieme, però di vista già la conoscevo perché più volte ci siamo scontrate. Dal punto di vista calcistico è una giocatrice molto ambiziosa, precisa e delle volte anche perfezionista e se non gli riesce bene quello che vuole fare si arrabbia e se la prende molto con se stessa. Dal punto di vista umano invece è una ragazza che delle volte all'apparenza sembra dura e anche acida, ma in realtà è buonissima e anche molto simpatica. Pugna è una calciatrice molto combattiva, tignosa, in campo gioca tanto per la squadra e cerca sempre di aiutare sia in fase offensiva che in fase difensiva. È un attaccante che è sempre molto utile avere squadra perché appunto fa un lavoro molto sporco che fa sì che la squadra possa girare nel migliore dei modi. Come ragazza nell'anno che l'ho conosciuta posso dire che ha molto senso dell'umorismo, è divertente, tira fuori quelle battute pungenti che fanno veramente morire da ridere e vale la pena conoscerla perché è una forza. Il mio momento più bello e emozionante dal punto di vista calcistico è stata la vittoria del campionato DB con il Perugia e quindi la promozione in Serie A. È stata un'annata perfetta, spettacolare, ricercavamo questa promozione da anni e alla fine ci siamo riuscite, è stato molto bello. Il gol più importante è stato l'anno scorso con il Ravenna quando stavamo pareggiando fino al 94esimo e l'ultimo minuto ho fatto il gol del 2-1 che poi ha portato alla vittoria. Uno dei ricordi più belli che ho calcisticamente parlando è la vittoria del primo scudetto primavera con la Res Roma. È una partita che, una stagione in generale che non sembrava possibile e dove non eravamo assolutamente una delle squadre favorite ma che nonostante tutto attraverso il gruppo, l'allenatore, ci siamo trovate bene e siamo arrivati in finale contro la Fiorentina che era da subito la favorita del campionato. Da che perdevamo 2-0 abbiamo rimontato tutto il secondo tempo, siamo finiti ai ricori e abbiamo vinto lo scudetto ma è stata una delle vittorie più belle che abbiamo mai vissuto per il gruppo, per la vittoria in sé e per la gente che ci seguiva perché è un gruppo fantastico. Prima di arrivare a Sassuolo avevo principalmente come aspettativa la crescita personale come calciatrice, l'avere nuove ambizioni e cercare di conquistarmi il ruolo da titolare in questa squadra. Adesso che sono passati una ventina di giorni dall'inizio del ritiro mi sento di dire che siamo una grande squadra e abbiamo ambizioni importanti per questa nuova annata e cercheremo di conquistare un posto alto nella classifica perché secondo me ce lo meritiamo. Quello che mi ha spinto a venire qui al Sassuolo è stata l'impressione positiva che ho avuto della società, dello staff e anche del centro del Sassuolo. Arrivando qui poi e avendo conosciuto anche il gruppo, le impressioni sono molto buone, credo che possiamo fare una bella stagione e soprattutto la mia aspirazione principale è quella di crescere, di contribuire per far bene per questa squadra. Forza Sassuolo!